Salve a tutti ragazzi sono sempre io il vostro Vincenzo Man e quest'oggi ragazzi siamo su Archiro Ragazzi dobbiamo continuare la modalità spedizione quindi mi grigli andare Ok ragazzi è qui qua Allora mi prenderei subito questo e andiamo Poi queste, questa, questa e questo dai scudo guardia Ottimo E si passa al prossimo ragazzi bene 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 Oh giochiamo Allora Va dire di prenderci questo Poi questo, questo, questo e questo dai Ottimo Mamma mia con le piante carnivore E quanti luci Ok sconfitti tutti Perfetto ragazzi Ok ragazzi altri due livelli superati Ragazzi ci vediamo in un prossimo episodio di Archiro Grazie a tutti